ciao ciao amici benvenuti o bentornati sul mio canale sono il carletto se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al mio canale quest'oggi qua dal mio angolo delle recensioni dalla mia tana ho fatto tutte le recensioni degli iron man della z di toys che stravincono il rapporto qualità prezzo a parer mio su tutte le altre figure esistenti di iron man perché perché ripariamo pochissimo prezzo e sono veramente dettagliate fatte veramente bene adesso siamo all'ultima per adesso perché stiamo aspettando l'arrivo di altre versioni di queste già uscite ma in versione light up stiamo aspettando che ci tirano fuori anche l'alc baster e poi vedremo le altre che usciranno langar un po di cose poi vi farò vedere tutta la collezione anche questa buttiamola qua insieme di queste qua in vetrina illuminate voglio fare alla fine con una cosa veramente bella allora spacca questa è da iron man 3 la mark 42 veramente bella in questa proveremo a fare quella posizione ostiata col pugno in terra ci proviamo anche qua tentiamo di fare qualcosa di fatto bene questa qua è anche licenziata vedete disney disney marvel ha sempre questo principio di funzionamento che mi esalta un sacco del magnete guardate qua che ci permette l'apertura della scatola che è fatta veramente packaging veramente bene guardate qua mi piacciono un sacco poi si va a sfilare la prima parte qua che adesso l'hanno infoniata la linguetta era finita sotto guardate che bella anche questa parte qua in metallo dietro ci spiega come il solito adesso ci sono i riflessi non so se lo vedete come andare a montare la basetta poi troviamo la figure solita e poi come al solito che è l'unico difetto ragazzi di queste figure qua che non ci integrano niente di nuovo ci sono le solite vedete manine fuocherelli e basetta che questa qua pressoché uguale per tutti quanti modelli va a cambiare solo la scrittura che troviamo sulla basetta quindi dai vediamo come via e constitutile bene bene nel dettaglio che la cosa fondamentale la vediamo in due posizionale e poi andiamo a concludere allora vediamo nel dettaglio allora cari amici andiamo a vedere questa cosa qua allora la basetta è pressoché identica cambia ovviamente la dicitura iron man 3 mark 42 vedete qua abbiamo le mani i fuocherelli solite la basetta che è sempre identica vedete qualcuno hanno i buchi altri hanno le plastiche per fare le diverse configurazioni però di linea di massimo ovviamente cambia la colorazione ma la parte degli accessori è sempre uguale per tutti allora la cosa che mi ha lasciato un po perplesso è in questa 42 un po la colorazione perché vediamo allora c'è questo sistema sempre vedete che ci fa alzare il busto per renderlo molto più posabile vedete la parte qua delle spalline a quel meccanismo che abbiamo visto anche in quella precedente che si può tirare fuori la rende più posabile vedete cambia lo scult dell'elmo che la parte qua è verniciata fatta veramente veramente bene la parte dietro anche però guardate nella parte diciamo vediamo qualcosa qua non ha più a non ha più in questa marca e le parti che si alzano guardate qua vengono allargate qua sono addirittura vedete stampate le parti qua quindi è notevole questa cosa qua fatta veramente bene però mi ha lasciato un po perplessa perché in questa figure qua mi sono accorto di due difetti mentre nelle altre z di toys non avevamo neanche un difetto guardate qua qua vedo praticamente un gambale che guardate qua quando andiamo a chiuderlo non chiude perfettamente avendone due perché eravamo tirata su anche un amico mi sono accorto che è comune in due o tre figure che abbiamo è comune questo difetto con tutti il gambale di sinistra questa parte qua non è perfetta non è dritta oltre a quello in queste figure nella parte qua troviamo qualche piccola sbavatura vedete anche qua vedete qualche piccola sbavatura ed è l'unica z di toys che in alcuni punti l'hanno un po' toppata ragazzi e vedete anche qua c'è una piccola sbavatura mentre le altre erano tutte pressoché perfette questa qua qua è la a qualche piccola magagna qualche piccolo di fettuccio più che altro vedi anche qua la sbavatura qualche piccolo di fettuccio di colorazione vediamo la parte del collo qua c'è dai comunque nel complesso è veramente bella adesso io non mi ricordo esattamente se era giusto che terminasse così la colorazione del collo però sì mi pare di sì sì giusto perché anche dietro però dietro è fatta la linea sembra fatta bene qua vedete un po sfumata non lo so però dai nel complesso non si può pretendere di più guardate qua cambiano anche le spalline cambia il reattore vedete il reattore qua completamente diverso cambia lo scut cambia tutta questa parte qua la parte qua comunque sono tutte non è che possiamo dire che non sono dettagliate bene sono tutte dettagliate veramente bene questo è il difetto che vi faccio vedere nella 42 che rimane questa parte qua un po stortina diciamo così comunque ci siamo ci siamo sempre tutte le z di toys perché rendono veramente tanto secondo me sono le migliori lo ribadisco rapporto qualità prezzo vediamo la girare eccoci qua la prima mi piace sempre un po farla vedere così come nasce questa mark in questo caso è la 42 di base senza metterli accessori come possiamo vedere come tutte le z di toys comunque fanno la loro bella scena in vetrina questa ho messo un po in versione gorillone saper correre a combattere no da parte di scherzo messo un po più modalità infuriato ma adesso in questa recensione proveremo a fare la mitica posizione di quando arriva iron man quella col pugno per terra la posizione simbolica non ce la farò mai faccio tutto in diretta sapete poi non rifaccio niente più che altro non in diretta nel senso che io quando mi metto qua inizia a registrare perché è proprio una cosa che faccio per passione poi come viene viene non sto mai a rifare le cose proprio non è da me comunque vedete anche questo fatto di tirare avanti questa parte qua per renderlo più posabile è una figata questa qua come già ripetuto è l'unica che ha qualche piccola maganina di verniciatura qua e questa parte qua del ginocchio un po così ma ho visto è proprio in tutte in tutte praticamente in tutti i modelli di questa marca 42 a questa parte con un pelino alzata secondo me hanno stoppato di un attimo lo stampo comunque è veramente bella 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 questa figura dai proviamo a metterla a metterlo nella sua posizione iconica iconica diciamo così non c'è niente da fare cari amici miei è il mio incubo sta posizione farlocca provate a fare questa qua vedete ma non riesco a farla in nessun modo incredibile non capisco come mai non so se l'ho riuscito a vedere devo venire di qua volevo fargli questa posizione farlocca che tiene il pugno in avanti ma non riesco a farla in nessun modo c'è incredibile non riesco a farla devo andarmi a seguire un tutorial che non esisterà mai di come metterlo in quella posizione c'è sono davidissimo possiamo farli tutto 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 ma io quella posizione ragazzi proprio non riesco a fare come se ha il busto in avanti vedete ma non so come quali tiro la gamba indietro e la piego in tutti i modi anche possibile vedete questa qua dovrebbe essere teoricamente piegata così in avanti ma non riesco a farli toccare il pugno vedete in avanti boh non riesco eccolo è potente è morente è sdraiato morente io quella cavolo di posizione qua vedete non la riesco a fare assolutamente e quindi basta mi sono stufato mi sono dannato anche iron man se stufato adesso lo vediamo girare così morente ha è morto anche lui ha subito troppo le mie ingiure glielo piegata in tutti i modi ste gambe braccia proprio per tutto la sera ho mai visto però non ce la faccio proprio ragazzi postatemi qualche foto se avete questi qua della z di toys e riuscite a farli quella posizione qual povera iron man è morto morto vedete e defuntus quindi possiamo andare a spegnerli anche la lucetta qua dietro vediamo o facciamolo riposare in pace troppo stanco gli ho mosso gambe braccia bari in tutti i modi che dai per possibilità anche se io non riesco a fare quella posa farlocca andiamo a concludere giunge al termine anche la recensione di questa mark 42 da ero mentre mi ha fatto dannare ragazzi sono senza energie perché volevo fargli fare quella posa iconica col pugno in terra in avanti ma non c'è o non sono fatte di tutti i colori al suo poveraccio ma non ci sono riuscito se voi riuscite mi raccomando nei commenti mettetevi una foto che io devo vedere come cavolo avete fatta a metterli sta gamba in avanti l'altra piegata indietro il corpo buttato in avanti colpo eppure sul packaging di un sacco di queste z di toys troviamo quella posizione quindi penso che sia ovvio che si possa fare quella benedetta posizione io ci ho provato a lui l'ho distrutto praticamente no a parte gli scherzi veramente materiali eccezionali vedete niano combinate di tutti i colori ma sono materiali rigidi solidi sono fatti veramente bene questi z di toys e rapporto qualità prezzo è vincente quindi se volete spendere poco comprateli un saluto dal carletto mi raccomando iscrivetevi al mio canale sostenetemi sostenetemi e datemi coraggio per andare avanti questo è fondamentale lo potete fare mando in alto quando esco io col guanto di thanos anche cliccare di e fare iscriviti se vi è piaciuta la recensione di questo bambu lottulus della z di toys della mark 2 di iron man mi raccomando che è fatto veramente carino pollice alzato e anche lui dice sì pollice alzato mi raccomando pollice alzato che è importante anche quello e se mi volete seguire in tutte le mie recensioni pazze diamo l'imposa e da vincente tipo lottatore se mi volete seguire in tutte le mie recensioni pazze attivate anche la campanellina che sta in alto saluto dal carletto alle prossime recensioni vincente ho vinto